Benvenuti nell'interessante canale delle confessioni. Tesoro, dobbiamo parlare. Quanti uomini hanno sentito queste parole? Mi chiedo quanti matrimoni e sogni siano andati in frantumi. Certo, Debbie, tutto quello che vuoi, risposi distrattamente a mia moglie di 14 anni, che era appena entrata in casa nostra. E chi è questo ragazzo che è con te? Beh, Charlie, iniziò lei con una certa esitazione nella voce. Questo è Michael ed è di lui che voglio parlarti. Da dove ero seduto, alzai lo sguardo su quei due, osservando la mia bella moglie di 36 anni e l'uomo piuttosto bello con lei, che non poteva avere più di 23 anni o giù di lì. Non aveva un bel aspetto né un bel aspetto, vero? Debbie aveva un'espressione molto seria, mentre questo Michael sorrideva. O forse lo definireste un sorrisetto. Non aveva molta importanza, ma di sicuro, a quanto pareva, era piuttosto soddisfatto di sé. Allora, forse ne aveva motivo. Debbie deglutì e tossì per coprire il suo nervosismo. Charlie, devi sapere che ultimamente il sesso tra di noi non va molto bene. Non so come tu possa dire una cosa del genere, Debbie. La supplicai. Su, via Charlie, tesoro, proseguì lei. Sai bene quanto me che ultimamente i nostri rapporti sessuali non sono stati molto eccitanti. Non molto eccitanti? Chiesi. Cosa intendi per non molto eccitanti? Intendo dire, tesoro, che forse non mi hai dato tutto quello di cui ho bisogno. Come fai a saperlo, Debbie? Ho chiesto, visto che nelle ultime sei settimane non ti sei degnata di fare sesso con me. Non vedo come tu possa affermare che non sono stati molto buoni. Mia moglie ebbe almeno la decenza di sembrare un po' a disagio e guardò Michael per avere un sostegno morale. Senti, Charlie, interruppe Michael. Quello che Debbie sta cercando di dire è «Io non ti conosco, giovanotto», lo interruppi, «e tu non conosci me. Se vuoi parlare con me, allora non chiamarmi Charlie. Per te è il signor Martin». Michael rimase lì, furioso, con il volto che assumeva un interessante tonalità di osso, quindi era uno a zero per me. Tuttavia avevo un'idea precisa di ciò che stava per accadere e il punteggio non sarebbe rimasto tale a lungo. «Lascia fare a me», intervenne Michael prima che mia moglie o il suo ragazzo potessero fare qualcosa di cui avrebbero potuto pentirsi. «Senti, Charlie, non è che non ti ami ancora o altro. Penso tutto il mondo di te e non potrei immaginare la vita senza di te, quindi non mi starai dicendo che ti sei innamorato di un'altra, Debbie?» «No, certo che no», confermò lei. «Beh, almeno non esattamente». Mi guardò implorante, sperando che capissi, così le feci cenno di continuare. «Non voglio cambiare nulla tra noi, tesoro. Sono ancora innamorato di te come quando ci siamo sposati. È solo che, spiritualmente, sento di essermi espansa un po' più di te, Charlie, e ho bisogno di un po' di spazio per ritrovarmi». Si fermò di nuovo, sorridendomi, sperando che la seguissi. «Con ritrovare me stessa, Debbie», azzardai annuendo con la testa. «Immagino che tu intenda essere libera di vedere Mickey Boy qui». Michael si irritò quando lo chiamai Mickey, ma si trattenne, capendo che lo stavo provocando. «Non essere rozzo, tesoro», mi rimproverò Debbie. «Non si addice a un uomo come te. Pensavo che saresti stato più comprensivo dei miei bisogni. Allora come lo definiresti, Debbie?» «Beh, più che altro una relazione significativa», spiegò lei. «Une espansione essenziale del mio essere, come una sorta di espansione del tipo relazione con lui e tradimento con me, vuoi dire?» Debbie fece una smorfia e sospirò profondamente, guardandomi come se fossi un bambino difficile che fa i capricci. «Charlie, non mi stai rendendo le cose molto facili, sai?» «Mi dispiace, tesoro», borbottai. «Non vorrei renderti le cose difficili mentre stai trovando te stesso». «Non c'è problema, Charlie», accettò gentilmente le mie scuse. «Ma non mi hai ancora detto cosa vuoi, Debbie?» le feci notare, facendola ricredere un po'. «Penso che tu sappia cosa voglio, Charlie», disse lei con chiarezza. Ci fu un po' di bisbiglio tra i due, rendendo più che evidente che la conversazione non stava andando come si aspettavano. Alla fine, Mickey fece cenno a Debbie di continuare, evidentemente non disposto a rivolgersi a me come signor Martin. «Beh, quello che abbiamo pensato, Charlie», cominciò lei, «è che io e te continuiamo felicemente come prima, ma io sono libera di uscire con Michael due o tre volte alla settimana. Non noteresti quasi la differenza, tesoro, te lo assicuro. E tu pensi che sarebbe la cosa migliore per noi due, vero, Debbie?» «Beh, sì, lo penso, tesoro», continuò lei. «Io e Michael abbiamo risolto tutto e forse certe sere non sarò qui, ma tornerò sempre a fare colazione con te». Questo era interessante, visto che comunque ero sempre io a preparare la colazione. Non è che si stesse dando da fare, no? «E poi saresti in grado di trovare te stessa, Debbie?» «Beh, sì, lo farei», concordò mia moglie con l'aiuto di Michael, «e naturalmente anche il tuo, Charlie. Allora sono sicura che potrei espandere i miei orizzonti come ho sempre desiderato». «Che mucchio di stronzate!», risposi annuendo con la testa per indicare che pensavo di aver compreso appieno la proposta. «Quindi continuiamo come nelle ultime sei settimane, con me che non ricevo sesso da te, mentre il pungente Mickey Boy qui ti vede più volte alla settimana?» Debbie aveva un'aria un po' sgonfia, mentre il suo amante stringeva e disfaceva il pugno con rabbia. «Ti prego, Charlie, smettila di fare il difficile», mi supplicò Debbie, allargando le braccia e facendo un passo avanti verso di me. «Certo, non sarà così, tesoro. Mi dispiace di averti trascurato ultimamente, ma ti prometto che mi farò perdonare». Tesi la mano per fermarla, guardai l'altro uomo e chiesi «Ti va bene allora, Mickey? Ti va bene se la tua ragazza mi fa la grazia di tanto in tanto?» Poi mi sorrise stupidamente, sicuro di avermi in pugno. «Come vuoi, amico, scopati Debbie quanto vuoi, per quanto mi riguarda, ma non godrà mai come con me». Debbie cominciò almeno a protestare, dicendogli di stare zitto, ma lui aveva già l'uccello in tiro e continuò. «Con il tuo piccolo cazzo, probabilmente non ti sentirà più dentro di lei dopo essere stata con un vero uomo come me». «È quello che pensi anche tu, Debbie?» chiesi. «Che quello di Mickey sia molto più grosso del mio e che sappia usarlo meglio di me?» «No, Charlie, ti giuro che non gliel'ho mai detto. Se lo sta inventando, quello stupido idiota». «Non è migliore di te e a letto. Forse un po' più rude, ma solo diverso. Tutto qui». Li lasciai qualche istante prima di colpirli con il mio commento successivo. «È più o meno quello che ha detto Linda, come è successo». La mia affermazione li portò a un passo dall'essere sconcertati. Debbie rimase a bocca spalancata per la sorpresa, mentre Mickey si scagliò in avanti, alzando il pugno «Ucciderò quel bastardo!» mi urlò con rabbia. «Mi dispiace, Mickey Boy, ma tua moglie Linda è già coinvolta». Mi divertivo a dirglielo, mentre lui si avvicinava minaccioso, con il pugno pronto. Debbie lo afferrò, tirandolo indietro. «Non farlo, Michael!» lo implorò. «Ucciderò quel bastardo!» replicò lui a voce alta. «Un vecchio stronzo come lui», disse Michael mentre lo teneva stretto. «Credimi, non hai alcuna possibilità se lo colpisci. Te ne pentirai». Aveva ragione, naturalmente. Avrò anche avuto una quindicina d'anni più di lui e forse lui si allenava in qualche palestra, ma io avevo lavorato duramente per gestire la mia impresa di costruzioni e, nel corso degli anni, avevo imparato a difendermi da alcuni degli uomini più duri del mestiere. Fece un passo indietro, pensandoci due volte. Peccato. Non importa, forse ci sarebbe stata un'altra occasione. «Perché stai coinvolgendo la moglie di Michael in questa faccenda, la mia adorata moglie Debbie?» mi chiese infine. «Non c'è bisogno di coinvolgerla». «Non io», le dissi. «È stata lei a contattarmi un mese fa e a dirmi cosa stava succedendo tra voi due». Se Debbie sembrava sorpresa, Mickey sembrava sbalordito. Non ne aveva la minima idea. Non ne aveva la minima idea. Dio, la situazione cominciava ad essere piacevole. Ci fu un momento di stallo. Ci fissammo tutti l'un l'altro. Ognuno di noi aspettava che qualcun altro dicesse qualcosa. Ancora una volta fu Debbie a rompere per prima, mi dilettai a dirle. Allora la risposta è sì. È iniziata come una vendetta per noi due circa quattro settimane fa, ma sono lieto di dirti che è diventata molto di più. «Stai mentendo, bastardo!» Mickey Boy si intromise. «Mia moglie non andrebbe a letto con nessun altro se non con me, soprattutto non con un vecchio bastardo come te». Sollevando le sopracciglia, diedi un'occhiata a Debbie, che sembrava un po' incazzata. Io e Debbie avevamo più o meno la stessa età, quindi cosa diceva di lei il suo commento? «La sua vecchia mucca. Vuoi una prova, Mickey?» Lo presi in giro. Vuoi che ti descriva il suo speciale tatuaggio con la rosa e dove si trova esattamente o preferisci che imiti il modo in cui grida «Oh sì, oh sì, oh sì» quando raggiunge l'orgasmo? Se l'aspetto potesse uccidere, in quel momento sarei morto da tempo. Sapeva con certezza che non solo avevo visto la sua bella e sexy moglie ventunenne nuda, ma che le avevo anche fatto godere. «Non ho mai visto una ragazza eccitarsi così tanto solo per averle strizzato i capezzoli», aggiunsi rinfacciandoglielo. «E, cieco, le piace succhiare!» «Bugiardo!» mi lanciò. «Linda non lo fa, non per te, raggio di sole!» «Mi sono divertito a prenderlo in giro, ma l'ho convinta di quanto possa essere divertente. Le piace molto. Avresti dovuto passare più tempo a sperimentare con lei invece di farti mia moglie». «Me ne vado!» gridò con rabbia, spingendo via la mano di Debbie. «Farò vedere a quella maledetta di mia moglie cosa...» «Aspetta, Miki!» lo chiamai, prendendo una chiave dalla tasca. «Se non hai una chiave come questa, non potrai entrare in casa!» «Ho la mia chiave, maledetto idiota!» urlò lui con malumore. «Non come questa che non hai!» lo informai. «Abbiamo fatto cambiare le serrature di casa tua!» Miki si sentì visibilmente a passire. «Bene, allora vado!» informai gioiosamente i due, alzandomi per la prima volta. «Se avete bisogno di me, sapete dove trovarmi!» «E le tue cose, Charlie?» Debbie gridò, mentre le prime lacrime cominciavano a scendere sulle sue guance. «Non puoi abbandonarmi così, tesoro!» «Oh, ma posso, mia cara?» la informai. «E' tutto quello che voglio da questa casa! O è già a casa di Linda! O è già pronto nella mia macchina! Forse questo ti lascerà un po' di spazio in più in cui espandersi, tesoro!» Debbie guardò frettolosamente nella stanza in cui ci trovavamo e, per la prima volta, notò che mancavano alcuni miei oggetti personali. scoppiò a piangere e cercò di precipitarsi tra le mie braccia, ma io la trattenni e le dissi con calma che poteva tenere la casa e l'auto e che il mio avvocato l'avrebbe contattata per qualsiasi altra cosa. «Ma come farò a vivere, Charlie?» singhiozzò pietosamente. «Hai il tuo lavoro part-time, Debbie», le ricordai. «E forse Mickey ti sosterrà, anche se potrebbe non essere così facile, visto che il padre di Linda lo licenzierà domani mattina». Camminando verso la porta d'ingresso, li guardai di nuovo, notando la differenza nella loro aria di sconforto rispetto a quanto erano pieni di fiducia solo mezz'ora prima. «Ciao Mickey», lo chiamai mentre uscivo di casa. «È stato un piacere conoscerti. Ciao Debbie, grazie di tutto e piacere di averti conosciuto. 3 a 0, partita finita». Non mi guardai indietro mentre chiudevo la porta alle mie spalle, ma mentre camminavo lungo il sentiero che portava alla mia auto, potevo sentire i due che si urlavano e si sgridavano un centinaio di migliaia di dollari o giù di lì liberarmi di Debbie, ma non era la prima volta che mi era stata infedele e i miei sentimenti per lei erano morti. Inoltre, dare in permuta un'auto di 36 anni, anche se ancora in buone condizioni, più 100.000 dollari per un modello di 21 anni a basso chilometraggio, in condizioni immacolate e bellissime, mi sembrava un buon affare. Il fatto che fosse un animale a letto, che sembrasse innamorata di me e che suo padre fosse un multimilionario, contribuirono non poco. Che risate! Caro ascoltatore, se sei arrivato fin qui, ti prego di cliccare sul pulsante abbonati. Sarà di grande aiuto! Grazie!